Allora signore, questo pozzo è profondo 40 metri da sopra e giù, ma è tagliato, vi siete accorti che qua continuava. Questa è una cava di pozzolana, girate e guardate sopra, questi sono i segni della mazza e del scarpello. Nel corso dei secoli qua sotto hanno estratto la pozzolana perché con la pozzolana unita alla calcio ci hanno fatto il calcio estruzzo.